Missione a rischio di fuga, dovrete per prima cosa ottenere del carburante per l'elicottero pesante, lo troverete nel treno, esattamente nel vagone in cui vedrete tra poco, una volta ottenuto il carburante dovrete soffermarvi un attimo sulla mappa e trovare l'elicottero pesante. Una volta trovato l'elicottero pesante, in questo caso l'ho trovato a Zaia Osservatori, dirgetevi là, salite sull'elicottero, con la freccia giù fate il pieno all'elicottero cliccando su la tannica di benzina che avete nell'inventario dello zaino, dopodiché uscite dalla mappa con l'elicottero pesante e la missione sarà conclusa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.